Il cancro al seno Giulia Luiz Dreyfus vela il suo dramma, Ho un cancro al seno Giulia Luiz Dreyfus ha il cancro. L'attrice 56enne ha condiviso con i fan questo momento delicato della sua vita, dando l'annuncio su suoi profili social. L'amatissima protagonista di Vep, inoltre, ha dimostrato di voler estendere la sua battaglia a tutte le donne che non hanno la fortuna di potersi curare. Una donna su 8 ha il cancro al seno. Oggi è toccato a me. Poche semplici parole per annunciare la sua lotta. Così l'attrice Giulia Luiz Dreyfus ha condiviso questo momento delicato con i tantissimi fan. Ha riconosciuto, però, di avere la grande fortuna di potersi curare. Purtroppo non tutte le donne hanno questa possibilità. La buona notizia è che ho al mio fianco un gruppo meraviglioso di familiari e amici e ho una fantastica assicurazione medica. La cattiva notizia è che non tutte le donne sono così fortunate, quindi combattiamo tutti i tumori e rendiamo l'assistenza sanitaria universale una realtà. La malattia non le impedirà di registrare la settima stagione di Vep. Giulia Luiz Dreyfus è la protagonista dell'amatissima serie di BoVep Vicepresidente Incompetente. La nota emittente televisiva, raggiunta dalla CNN, ha chiarito che l'attrice sarà presente anche nella settima stagione e che verranno incontro a ogni sua esigenza per permetterle di stare sul set. Il nostro amore e sostegno va a Giulia e alla sua famiglia. Siamo certi che riuscirà a superare questo momento con la sua solita tenacia e con il suo irriducibile spirito. Aspettiamo il suo ritorno a BoV per la stagione finale di Vep. Giulia Luiz Dreyfus è il record agli Emmy. La brutta notizia è arrivata al culmine di un anno decisamente positivo per Iulia Luiz Dreyfus. L'attrice, infatti, ha segnato un importante record nella storia degli Emmy. Per tutte e sei le stagioni di Vep è stata premiata come miglior attrice protagonista. I tantissimi fan si sono riversati sui social per darle il loro sostegno. Per tutte e sei le stagioni di Vep. Giulia Luiz Dreyfus è il nostro corso di Vep. Giulia Luiz.